Tra poco Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale Trovano 3000 euro per strada, il comune le premia con un encomio Bimbo morto per otite, l'annuncio del nonno paterno, fermate quel medico, è pericoloso Il volley stellare arriva a Pesaro, tre giorni di World League Un altro fine settimana senza chalet, incognita sui tempi di riapertura Tamponamento a catena, lungo l'Adriatica, 4, le auto coinvolte Buonasera, benvenuti a Occhio alla Notizia Apriamo il telegiornale parlandomi della vicenda del bambino morto per le complicanze diunotite Dopo la giornata di ieri e la giornata della costernazione, del lutto per il funerale del piccolo bambino Oggi la parola tocca al nonno, al nonno materno e alla zia Quel medico va fermato, è un pericolo per altri bambini Il nonno materno del piccolo Francesco, il bimbo di 7 anni di Cagli, morto il 27 maggio Per un otite e la zia, sorella della madre, chiedono che il dottor Massimiliano Mecozzi L'omeomata indagato per concorso in omicidio colposo con i genitori di Francesco Paghi per i suoi errori Nello studio del legale dell'avvocato Federica Mancineni Nonno e zia hanno ripercorso con l'ansa e i giorni della tragedia Il nonno, Maurizio Olivieri, dice Al dottor Mecozzi, dico che non cercheremo vendette Io e la famiglia delle mie figlie chiediamo che la giustizia lo punisca per quello che ha fatto Per i suoi errori medici, per le sue diagnosi sbagliate Visto che parlava di virus e invece l'otite era di origine batterica Che parli per la sua arroganza intellettuale perché ha terrorizzato mia figlia E suo marito dall'andare in ospedale o da far assumere al bimbo antibiotici I farmaci che stando ai sanitari dell'ospedale Salesi di Ancona Che hanno avuto in cura il bambino quando era già in coma irreversibile Lo avrebbero salvato Queste le parole e le dichiarazioni del nonno e della zia Vedremo il proseguo delle indagini e anche che cosa verrà fatto nei confronti del medico Cambiamo argomento, parliamo sempre di cronaca Cronaca nera però, la polizia di Urbino ha rintracciato, scoperto Un traffico pesante di marijuana e di hashish Vediamo i particolari nel servizio Gli uomini del commissariato di Urbino hanno scoperto nei giorni scorsi Una fiorente attività di vendita di marijuana e hashish nel comune di Cagli Gli agenti hanno svolto diversi appostamenti Dai quali è emerso che un cittadino di origine marocchina di 24 anni, residente a Cagli Utilizzava la propria abitazione come punto di riferimento per lo spaccio Attività svolta insieme al fratello 17enne Lo spaccio era diretto in particolar modo a ragazzi del luogo Alcuni anche di minore età Mentre altri noti consumatori di sostanze superfacenti Gli agenti quindi hanno perquisito l'abitazione del cittadino marocchino Rinvenendo e sequestrando marijuana, due bilancini elettronici, materiali per il confezionamento E una somma di denaro provento di una pregressa attività Il fratello minore invece collaborava stabilmente con il fratello maggiore Nell'attività di spaccio che si avvaleva anche di un 55enne italiano residente a Pianello Che forniva le sostanze ai due fratelli Il giovane 24enne di origine marocchina e il 55enne di Pianello Già noto alle forze dell'ordine per reati specifici Sono stati denunciati dalla procura della Repubblica presso il Tribunale di Urbino Mentre il minorenne che al termine degli atti è stato affidato alla madre Al Tribunale dei Minori di Ancona Un tamponamento multiplo nelle prime ore del pomeriggio Poco dopo le 14 è avvenuto lungo la stata alle 16 Nei pressi di Fosso 6 ore Quattro i veicoli coinvolti Sul primo una stilo station wagon Che con la sua frenata ha innescato la carambola Si trovavano madre e figlio alla guida diretti a Pergola Poi a seguire una Fiat punto grigia Con a bordo due anziani signori pesaresi Poi dopo dietro di loro l'auto di servizio di un'autofficina affanese E per ultima una Opel bianca Sulla quale viaggiavano marito e moglie Data la chiara dinamica del sinistro Tutti sono stati concordi per una constatazione amichevole Liberando così la sede stradale dai mezzi Per far defluire il traffico Che in quell'ora era già intenso E le prime code cominciavano a formarsi Sul posto si è fermata anche un'ambulanza Della Croce Rossa che si trovava di passaggio Ma che visto il groviglio di auto Ha pensato di fermarsi e valutare la situazione Ma è ripartita subito dopo Dato che nessuno degli occupanti dei mezzi Ha riportato alcuna conseguenza fisica Solo un po' di spavento E danni lievi ai mezzi Lo sciare del mar Resterà ancora chiuso E non si sa per quanto tempo Oggi noi stamattina siamo andati lì E abbiamo intervistato il suo titolare Sentite che cosa ci ha detto Allora Richard Qual è lo stato attuale della situazione? Lo stato attuale Il locale è ancora sotto sequestro E stiamo aspettando che la magistratura Faccia il suo corso Stamattina avete fatto qualche azione Avete promosso qualche iniziativa? Il nostro avvocato ha depositato gli atti Aspettiamo adesso di capire Quale sarà il proseguo Quello che farà la magistratura Che tempi si prospettano? Vi hanno dato un'idea? No, idea non ce l'hanno data Speriamo che i tempi siano brevi Minori possibili Naturalmente già questo weekend per noi comunque salta Cercheremo di fare il possibile Per aprire il prima possibile Weekend che saltano Incassi mancati La situazione potrebbe dimostrarsi un po' pesante Weekend che saltano Incassi mancati Più di 40 dipendenti che non lavorano Sì, la situazione L'indotto che portiamo Perché nel bene o nel male Qualcuno dice meglio Qualcuno dice peggio Però comunque siamo una realtà Penso abbastanza importante della zona Questa è la situazione Lo snodo, il vullus, il problema quale sarebbe? Avete capito? Sinceramente Diciamo Sì e no Nel senso che Ci sono stati contestati Degli atti Probabilmente da parte dei carabinieri Dovuti Noi eravamo in possesso Di una licenza Che ben pur temporanea Era comunque una licenza Ed è una licenza di pubblico spettacolo Quindi non è una licenza Di piccolo intrattenimento Voglio chiarire anche questo In attesa della commissione La commissione c'è stata Qualche giorno fa Ci ha dato delle prescrizioni E le prescrizioni Stiamo temperando Quindi Diciamo che sono due canali diversi Uno che è quello Del pubblico spettacolo E uno che è quello Invece del sequestro Quindi stiamo lavorando Su tutti e due i fronti Per cercare di migliorare E di sistemare Nel più breve tempo possibile Entrambe le cose E voltiamo a pagina Qualcuno forse se lo ricorderà Un paio di settimane fa Tre ragazze Studentesse Di un liceo di Fano Hanno trovato un sacchetto Con dentro 3000 euro Hanno chiamato la polizia Li hanno restituiti Ed ora sono state anche premiate Vediamo come E da chi Due settimane fa Trovarono 3000 euro In un sacchetto di plastica In Viale Italia E senza pensarci su troppo Lo consegnarono Nelle mani degli agenti Di una volante Del commissariato di Fano Intervenuta sul posto Dopo che loro stesse Attivarono il 112 Tre studentesse Molto unite Tra loro Del liceo linguistico Anolfi di Fano Che in breve tempo Sono balzate Con grande loro stupore Dei loro genitori Agli onori della cronaca Per questo gesto Che non rientra spesso Nella realtà quotidiana Un gesto Dai significati Molto profondi Ma che loro hanno eseguito Con l'innocenza E la naturalezza Dell'età Seguendo però Il ragionamento E la loro visione Di vita Frutto dell'educazione Ricevuta E del loro carattere Tanto rumore Fece il loro senso civico Che questa mattina Le più alte cariche civiche Della città Il sindaco E il presidente Del consiglio comunale Hanno voluto portare Di persona Tre encomi Dell'amministrazione Alle tre ragazze Quali esempio Di un modello educativo Virtuoso Allora Vi aspettavate Tutto questo? Eh no Sicuramente no Anche perché Comunque Pensavo che appunto Fosse la cosa più normale Quindi non ci aspettavamo Tutta questa Emozione Da pace da tutti Allora adesso ci sarà Un quadro in più Da appendere in casa Sì Anche perché C'è stato un bel gesto Darci questa cosa Anche se appunto È una cosa normalissima Quella che abbiamo fatto noi Però vederla riconosciuta È più bello Magari anche ad esempio Per gli altri Arianna immagino Tu sia contenta Sì molto Sono molto soddisfatta E è gratificante Vedere che comunque Un'azione buona Viene premiata In qualche modo Queste tre Giovanissime Studentesse Hanno dimostrato Che i valori ci sono Quindi La famiglia Trasmette valori La scuola Soprattutto Trasmette valori E questo per noi È un grande È un fatto molto importante Perché significa Che una società migliore Si può costruire Con il nostro impegno Quotidiano E soprattutto Con gli esempi La speranza E i valori Delle giovani generazioni Un gesto di normalità E anche un gesto Di forza Nel non cadere Nella tentazione Nel fare la cosa giusta E allora Con questa cerimonia Sobria Normale Come è stato Questo gesto Ma vuole essere anche Un messaggio forte Da trasmettere Alla gente Dicendo che Se ognuno di noi Tiene un comportamento Giusto Potremmo avere Una società migliore Bene Complimenti ancora E ormai Il conto alla rovescia È partito Mancano pochi giorni Al passaggi Festival Della saggistica Che quest'anno Ha un ampio E nutrito Programma Presentato questa mattina L'ultimo segmento Quello dedicato I laboratori 30 appuntamenti gratuiti In 4 giorni di festival Tra memoteca Palazzo De Pili E stabilimenti balneari Alla faccia di quelli Che pensano che il mare Sia solo sole E ombrellone Si diceva appunto Che questa edizione Del festival Dopo la scommessa Riuscita della piazza Il circuito Si sarebbe ancora Più esteso I bagnini di Lido E Sassonia Da giovedì 22 A domenica 25 giugno Ospiteranno Laboratori per tutti Ma anche per bambini Fonte di investimento Del festival In quanto non c'è lettore adulto Se prima non c'è stato Un lettore bambino O qualcuno Che da bambino Non ci abbia appassionato La lettura Quest'anno I servizi educativi Del comune di Fano È un partner Organizzativo Dell'Hermes Mettendo a disposizione Gli spazi della Memoteca E coinvolgendo Tutte le scuole Di questa città In questa didattica Trasversale Ma molto efficace Passaggi Festival Che in questi anni È cresciuto tantissimo È diventato un appuntamento Di rilievo nazionale Che arricchisce Chiaramente La nostra città Dal punto di vista Culturale Ma anche turistico E aumenta L'investimento Di passaggi Anche sul mondo Dell'infanzia Quest'anno Ospiteremo Attraverso la collaborazione Con la Mediateca 31 laboratori Di lettura Legati al mondo Dell'infanzia E dell'adolescenza È fin dalla prima edizione Che la macchina del Festival Punta sull'orizzonte Bambini Per questo Le attività collaterali Del Festival Assumono un peso Rilevante Nella composizione Di tutte le giornate Con la vocazione Che ha una città Come Fano Non si può Non tener conto Di questo Soprattutto quando Si decide di allargare Appunto L'offerta Del circuito Del Festival Tante attività Per bambini Ragazzi Alla Mediateca E nelle sedi Delle varie stazioni Balneari Lido E Sassonia Questo appunto Per arricchire L'offerta Del Festival E attrarre Insomma Anche i più piccoli Che sono tanti In questa città E hanno bisogno Appunto Di essere Diciamo così Delle loro attenzioni Bene Chiudiamo con lo sport Ma lo sport stellare Perché sono In arrivo Anzi Sono già presenti Da diversi giorni I campioni Del volley mondiale Perché a Pesaro Nell'Adriatica Arena Arriva la World League 2017 Il volley stellare Sta per sbarcare All'Adriatica Arena Di Pesaro Per la World League 2017 Quattro Delle prime Otto nazionali Al mondo Dal 2 al 4 giugno Si daranno battaglia Sulla superficie Dell'astronave In queste tre giornate Di volley Vedremo i campioni Mondiali della Polonia Il Brasile Oro Olimpico A Rio de Janeiro E la Nazione Italiana Detentrice dell'Argento E la Nazionale Iraniana Tra le prime dieci Formazioni al mondo Che fanno parte Di questo girone stellare Con un ascendente Molto italiano Se non addirittura Marchigiano Tre mister su quattro Sono se non del tutto Italiani Molto legati Alla nostra nazione Come Renan Dalzotto Coach del Brasile Ma di origini Venete E Ferdinando De Giorgi Che guida La Nazionale Polacca Legato alle Marche E a Pesaro Dove ha ammietuto I suoi primi successi Quattro nazioni Che sono fra le prime otto Delle Olimpiadi C'è anche la soddisfazione Di avere Pesaro vicina Perché Pesaro Quest'anno A città europea Dello sport Ha voluto Questa manifestazione E noi Non aspettavamo Nient'altro Che esaudire Questo desiderio Perché Pesaro È una città Che ha un grosso Tessuto sportivo Un grosso Tessuto sociale Una formula Quella della World League Che consente Alle squadre Di testare La propria preparazione E il livello In cui ci si trova Confrontandosi subito Tra i giganti mondiali Della pallavolo La prima giornata Vede subito La super favorita Il Brasile Scendere in campo Alle 17 Dove si scontrerà Con i campioni mondiali Della Polonia Poi alle 20 A scendere in campo Sarà la nazionale italiana Capitanata dal centrale Simone Buti Argento A Rio Come tanti suoi compagni Di squadra Sì Come ho detto anche Prima in conferenza Ci sono tanti giocatori giovani Nuovi Che hanno portato Tanto entusiasmo Non che non ce ne fosse prima Però ne hanno portato Ancora di più Lavoriamo sodo Ma lavoriamo Con lo spirito giusto E penso che questo Ci debba essere sempre Ci debba sempre Contradistinguere Per cercare di crescere Sempre di più E mirare sempre più in alto Vedremo quindi I beniamini di casa nostra Che si presenteranno Con una formazione All'80% Per quella che ha conquistato L'argento olimpico Ma con nuovi innesti Di giovani promesse Che saranno i futuri Top player Che ci porteranno Alle olimpiadi di Tokyo Questa fase Che è una fase Davvero iniziale Da tanti punti di vista Siamo con molto lavoro Sia accumulato Non in termini Di quanti Di lunghezza Ma perché lavoriamo A gruppo intero Da poco più di una settimana Ma di volumi Di lavoro Con l'idea di aumentarlo Ancora progressivamente Queste partite Ci devono dare Quella che è la parte Del miglioramento Del nostro gioco Bene Volley che continua Dopo la World League Anche a Fano Con i campionati Under 18 Naturalmente Grande Volley Anche qui Nella città Della fortuna Bene Io mi fermo qui Questo era tutto Per oggi Naturalmente Occhio alla notizia Torna domani sera Alle 20 e 30 Buon proseguimento Di serata A tutti voi Grazie 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 Grazie